salve a tutti con questo video voglio spiegare il funzionamento di come funzionano i shop online di avon e di snap secondo me perché certe persone certe consulenti colleghe si domandano perché le persone non vogliono comprare prodotti quando lavorano come consulenti perché me lo dico subito perché perché certe persone certe consulenti come me lo fanno come primo lavoro essendo che lo fanno come primo lavoro sono disoccupati e non hanno i soldi per comprare i prodotti e poi anche perché lo shop nello shop c'è come si dice le descrizioni dei prodotti quindi essendo che ci sono le descrizioni dei prodotti perché non dare link alle persone del proprio shop che l'azienda ci dà gratuitamente a noi consulenti avon e snap ecco quindi voglio far capire alle persone che non è detto che una consulenta avon deve fare le riunioni alle case delle persone come si faceva una volta col catalogo cartaceo si prendevano le ordinazioni non è più così io parlo per esperienza che ho visto l'esperienza che ho visto da altre persone quando ero piccola soprattutto di avon non tanto di snap perché non è che conosco tanto i prodotti snapper che non ho mai provati e non li posso provare se non mi fate guadagnare ecco voi persone quindi è così anche avon io l'ho provato i prodotti avone li conosco da quando ero ragazzina e mi ricordo che che praticamente una mia ex compagna gli portava ai professori ai maestri questo catalogo di avone cartaceo che io dava una consulente amica mia e sua e praticamente i professori prende davano mettevano dentro un foglio un blocco di blocco note se con tutti i codici dei prodotti che volevano ordinare e la consulente ordinava all'azienda adesso non funziona così adesso sono siete voi persone che clienti sotto di me o sotto posto